Buona la prima per il Barletta che in trasferta manda al tappeto l'Unione Calcio Biceglie per 0-2 e comincia nel migliore dei modi il campionato di eccellenza. Parte subito forte la squadra bianco-rossa. Al settimo Rotondo rompe gli indugi con un tiro al volo da buona posizione. Palla fuori. Un minuto più tardi Turitto addomestica la sventagliata di Lavopa, rientra e calcia. Provvidenziale l'intervento di Ingomma sulla linea. Prove generali per il vantaggio che il Barletta costruisce all'undicesimo sull'asse Lavopa Strambelli, con quest'ultimo che nella selva di Gambe infila Lullo per lo 0-1. L'Unione Calcio punta la sveglia alla mezz'ora con Gom che pesca a Moruso alle spalle della retroguardia bianco-rossa. Il 9 incrocia Staropoli, non si lascia sorprendere. Ancora brividi per i bianco-rossi agli sgoccioli della prima frazione. Zinetti per Binetti su calcio di punizione, solo la traversa nega la gioia del gol all'Unione Calcio. In avvio di ripresa, padroni di casa subito pericolosi. Zinetti scarica su De Blasio che lascia partire un destro potente. Staropoli respinge. Al 59 invece Zinetti ci prova direttamente su calcio da fermo. L'estremo difensore bianco-rosso risponde ancora una volta presente. Il Barletta soffre, ma al 69 ecco il raddoppio. Palla geniale di Strambelli per Turitto, bravo a saltare Lullo e successivamente a depositare in rete per lo 0-2. Nel finale spazio solo per l'incornata di Lattanzio. Tre punti pesanti per il Barletta in un campo storicamente ostico. Bianco-rossi all'ostacolo Molfetta nel prossimo turno, con una gara che si disputerà al Puttilli a porte chiuse. Per l'Unione Calcio c'è il derby contro il Biceglie.